Raddoppiare la percentuale di differenziata è l'obiettivo del nuovo porta a porta, quello inserito nel piano aro del comune di Sciacca e presentato stamattina, insieme ai contenitori che saranno consegnati a imprese e famiglie al centro comunale di raccolta. Deve iniziare una fase nuova anche perché poi diciamo che una raccolta differenziata non attenta produce effetti negativi sulla Tari e poi ci rendiamo conto che noi dobbiamo diminuire in maniera significativa i conferimenti in discarica, per fare questo bisogna avere un porta a porta efficace, un porta a porta che ci dia la possibilità nell'anno di regime di raddoppiare questo 35%. Sul multimateriale, secondo qualcuno si dovrebbe invece fare il monomateriale, un cassonetto per ogni tipo di materiale? Ma è da più di 20 anni che si lotta con il monomateriale, non è mai riuscito, da quando è uscito il decreto Ronchi, il famoso decreto Ronchi che non ha portato niente di fatto. Quindi con la nostra piccola e modesta esperienza ci siamo accorti che l'unico sistema che poteva funzionare è facilitare la raccolta alla casalinga di fare due tipologie, uno dell'umido e uno del secco multimateriale. Tra le altre cose sappiamo bene cosa è il secco multimateriale, la bottiglia di plastica, la lattina, la bottiglia di vetro, le riviste, i giornali, insomma tutto quello che si consuma in casa. Ed è molto semplice perché si va a mettere tutto in un solo sacchetto. E poi la selezione la fate voi? La selezione verrà fatta agli impianti di selezione che selezioneranno il materiale tipologia per tipologia. Ma noi ragionevolmente possiamo aspettarci di raggiungere questa soglia del 65% in quanto tempo? Io non voglio essere precipitoso, però se i cittadini ci seguono con questo sistema che è molto semplice e facile, io penso che fin dall'inizio, da quando partiamo, si raggiungeranno delle percentuali non indifferenti. Cioè a dire, mi auspico di superare il 65%, il 70% addirittura. Il porta a porta non si farà più a Isabella e a San Marco, ma dal centro storico si estenderà alla perriera. Si conta di estenderlo ulteriormente in futuro, intanto inizierà la distribuzione dei contenitori. Quelli che vedete in primo piano sono i codici che saranno applicati su ciascuno di questi contenitori. Codici naturalmente diversi per ogni contenitore. Questo consentirà l'identificazione del soggetto che lo riceverà e dunque la rintracciabilità, se è possibile dire così, dei rifiuti nel caso ovviamente di inadempimento rispetto alla necessità di conferire rifiuti differenziabili. Questo è un passaggio importante, così come è importante sapere che sono circa 30.000 i contenitori acquistati, sia quelli destinati alle attività commerciali, sia quelli destinati alle famiglie. E in più ci saranno anche dei cassonetti speciali per le grandi attività, quelle alberghiere, quelle di ristorazione, con naturalmente sempre la differenziazione tra rifiuto umido e rifiuto secco. L'amministrazione non nasconda la propria preoccupazione, quella che possono verificarsi situazioni caotiche, scenario che si cercherà di scongiurare il più possibile. Ci apprestiamo alla distribuzione dei contenitori dei Mastelli. Inizieremo con la zona centrale della città, il centro storico, partendo dalle attività commerciali, poi si continuerà con le attività commerciali della Perriera, che ne vede presenti abbastanza, e poi si passerà alla distribuzione per le unità domestiche. Naturalmente per agevolare i cittadini ci saranno dei punti che poi verranno comunicati. Intanto il centro comune di raccolta è già stato stabilito, è un primo punto di consegna dei Mastelli e dei secchielli. Il cittadino dovrà registrarsi e dire che ha ricevuto il contenitore per iniziare il porta a porta. Dietro di noi c'è un nuovo mezzo che è stato proprio acquistato per la bisogna, per questo nuovo servizio porta a porta che sta partendo. Sì, questa è un'innovazione, un mezzo bivasca che servirà per fare il servizio della raccolta nelle attività non domestiche, cioè a dire bar, pub e soprattutto i giorni festivi, quando si raccoglierà sia l'umido che il secco in queste attività.